C'hai parlato? Sì, fino adesso. Che ti ha detto? Martino! Che ti ha detto? Diciamo che non l'ha presa benissimo. Perché non mi lascia spiegare, cazzo? Secondo me adesso ha solo bisogno di un po' di tempo, Eva. Che gliel'ha detto a lui? Lo sanno tutti a scuola. Sì, ho capito, però lui da chi l'ha saputo? D'Elia. E ha deciso di credergli così, senza dentirmi. No, in realtà era un po' di tempo che si aspettava qualcosa. Diceva che eri... strano. Peggio. Sei tranquillo. Ma... Ne... I... Ti... Sì... No No Ok Grazie.